Napoli, che sorpresa, è tra le per la Champions dopo due big. Una stagione da sogno con prospettive enormi. Il Napoli dopo la vittoria sulla Juve si trova a 9 punti di vantaggio dal Milan, che ha pareggiato a Lecce, e a 10 dai bianconeri e dall'Inter. A 20 giornate dal termine è la grande favorita per la vittoria dello scudetto anche secondo gli esperti. Il sito specializzato 530 è IGUT, il portale di data analysis di proprietà di ABC News. Con un calcolo statistico ha stabilito la percentuale di successo che è altissima, il Napoli. Infatti, è destinata a vincere lo scudetto all'80% staccando di gran lunga l'Inter, 9%, e il Milan, 7%. Ma non solo, la curiosità è che anche in Champions il Napoli sia tra le favorite. Non la principale, sia chiaro, ma la terza dopo Bayern e City. Merito di una fase a gironi da applauso conclusa col primo posto nello stesso girone del Liverpool e di una stagione con elogi ovunque. Anche all'estero, soprattutto per la coppia d'attacco Osic-Vara. Napoli, scudetto vicino e sogno champion sullo stesso sito è possibile consultare le statistiche e le probabilità di successo per le squadre di tutti i campionati e per ogni competizione. In Champions la grande favorita è il Bayern Monaco che potrebbe vincere il torneo al 26%. Seguita dai City di Haaland al 20%, la sorpresa Napoli è al terzo posto con una probabilità pari al 7% e una pari al 16% per il raggiungimento della finale. Il Napoli terzo ha staccato anche Liverpool, Real Madrid e PSG, che inseguono col 6% di probabilità di trionfare a fine stagione. Mal che vada, la squadra di Spalletti ha il 34% di arrivare tra le prime quattro. Virgola